A consentire alla giovanissima la partecipazione al seguitissimo talent sono stati i professori del programma Giuliano, una ballerina di Giuliano ad amici Anna Maria è entrata nel talent show di canale 5.La ragazza 18enne, che è da tutti conosciuta come Mimmina, di cognome fa Ciccarelli, ed è una ballerina di danza moderna con basi classiche, e che fin da piccola ha sviluppato questa sua passione, che ha cercato di trasformare in ogni modo in un lavoro.Così, dopo aver fatto un percorso di studi, e dopo aver già lavorato in alcuni importanti teatri italiani, tra cui il San Carlo di Napoli, la Ciccarelli ha deciso di provare una nuova strada alla scuola di amici 18.La scuola di danza che la ragazza frequenta a Giuliano, quella che ha reso possibile questo sogno, è emozioni in punta di piedi di Giuliana e Marica Pennacchio.A consentire alla giovanissima la partecipazione al seguitissimo talent sono stati i professori del programma, che hanno visto in lei un grande talento, trovandola meritevole di far parte da subito della scuola.Tutti e sei i giudici hanno votato, infatti, a favore del banco immediato e Mimmina da oggi fa parte della classe del popolarissimo talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.